Attenzione, perché in questo canto dovremo preoccuparci per l'incolumità di Dante. Verrà infatti aggredito da un'anima dannata, che a quanto pare conosceva molto bene. Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova lettura della Divina Commedia. Stiamo leggendo insieme i canti dell'Inferno, sia per un ripasso, sia per passione. Siamo arrivati nel canto 8 e siamo nel quinto cerchio. Dante sta sprofondando sempre di più nell'imbuto infernale e si trova davanti ormai dei diavoli. Comincia da qui, infatti, la presenza di questi esseri che non ci abbandonerà praticamente più. Già nel canto precedente Dante era sceso in questa palude stigia in cui sono immersi gli iracondi. Coloro cioè che nel corso della loro vita avevano ceduto all'impeto dell'ira. Ma Dante si sofferma qui, anche in questo canto, perché c'è un personaggio che dobbiamo assolutamente conoscere. Dante dà il suo meglio quando ci parla di personaggi a lui contemporanei. E questo dannato è un cittadino di Firenze della sua epoca. Ma vediamo intanto che succede. Abbiamo lasciato Dante e Virgilio appunto nel quinto cerchio e ora stanno attendendo che qualcuno li traghetti al di là della palude stigia. Da lontano Dante a un certo punto si accorge che sta arrivando una nave piccioletta, ci dice, venire per l'acqua verso noi in quella sotto il governo di un sol galeotto, cioè guidata da un solo marinaio che gridava Ora sei in mio potere, anima malvagia. Ecco qui Virgilio è costretto a intervenire subito. Come al solito deve salvare Dante da questi custodi infernali che sono molto aggressivi, perché sono abituati ad avere a che fare, insomma, con i dannati. Flegias, Flegias, tu gridi a voto, disse lo mio signore, a questa volta. Più non ci avrai che sol passando il loto, guarda che ci avrai con te soltanto il tempo necessario per attraversare questa palude. Come colui che ascolta un grande inganno nei suoi confronti e poi se ne rammarica, allo stesso modo si fece Flegias nell'ira a stento repressa. Chi è però questo diavolo? Di nuovo un personaggio della mitologia. Figlio di Marte e di Crise. Era un dannato, in qualche modo, anche nella mitologia classica, perché aveva dato fuoco al Tempio di Delphi e quindi era stato precipitato giù nel Tartaro, nella parte più buia degli inferi pagani. E come al solito non vuole far passare Dante perché è vivo. Virgilio però non si fa problemi, entra nella sua barca per farsi traghettare e Dante va presso a lui. E sol quando io fui dentro Parvecarca, Dante nota che quando sale sulla barchetta, effettivamente solo in quel momento la barchetta sembra carica, cioè si appesantisce a causa del peso fisico del suo corpo. Infatti questa barchetta serve a Flegias per traghettare gli iracondi nel punto della palude nel quale devono rimanere. E invece questa volta viene usata da un uomo vivo, Dante, e da Virgilio che lo sta accompagnando. Mentre noi corravam la morta Gora, mentre noi percorrevamo la palude stagnante, dinanzi mi si fece un pien di fango e disse «Chi sei tu che vieni anzi ora?» Inquietantissima questa scena. Dante sta percorrendo questa palude buia e fangosa e a un certo punto vede che un'anima gli si para davanti, piena di fango, e dice «Chi sei tu che vieni prima del tempo?» «Perché tu che sei vivo stai percorrendo questa palude?» Quest'anima si rivolge in modo abbastanza aggressivo a Dante, ma siamo nella palude degli iracondi, non ci possiamo aspettare altro. E io a lui, «Sì io vegno, non rimango, stai tranquillo!» Gli dice Dante, «Se vengo non è per restare!» «Ma tu chi sei che sei si fatto brutto?» «Ma tu invece chi sei che sei così lordo di fango?» «Che sei reso così brutto dalla tua stessa pena?» Rispose, «Vedi che sono un che piango?» «Vedi che sono uno che stai spiando la sua colpa!» Ecco, a questo punto Dante capisce chi è che sta parlando con lui. Io a lui, «Con piangere e con lutto, spirito maledetto ti rimani!» «Chi io ti conosco, ancor si è lordo tutto!» Dice, «Con la tua pena e con il tuo dolore, spirito maledetto, restatene qui!» «Che io ti riconosco!» Nonostante tu sia tutto sporco di fango, nonostante la sporcizia che porta sul volto, Dante lo riconosce, è un suo concittadino. E gli rivolge parole molto dure, capiamo fin da subito che il rapporto tra Dante e questo personaggio non è dei migliori. E guardate infatti a questo punto l'anima come si comporta. Allora protese verso la barca, tutte e due le mani, sta provando a rovesciare la barca all'interno della palude. Qua epico Virgilio che interviene perché il maestro a corto lo sospinse dicendo «Via costa con gli altri cani!» Virgilio, cioè, vigile, lo ricaccia indietro e gli dice «Vattene da qua con gli altri cani!» Definisce i dannati come lui dei veri e propri cani. C'è una grande violenza in questo canto, no? Sia nelle azioni, Dante rischia di cadere giù nella palude, sia nelle parole, sia nei suoni, provate a farci caso, ora che leggerò altri versi, no? Sono suoni molto duri, molto aspri. Siamo in un punto dell'inferno veramente spreggevole, coloro che si sono lasciati andare all'ira e che quindi hanno sottomesso la loro ragione a questo vizio capitale, perché a tutti gli effetti è un vizio, continuano a riprodurre anche nell'inferno questo loro atteggiamento animalesco, brutale, appunto violento. Qui però c'è una punta di dolcezza e d'affetto, Dante ci dice infatti che una volta che Virgilio ha ricacciato indietro l'anima, lo collo poi con le braccia mi cinse, baciòmi il volto e disse, Alma sdegnosa, benedetta colei che intesi incinse. Guardate, ormai Virgilio si è affezionato a Dante, sente proprio la responsabilità di fargli compiere questo viaggio illeso e quindi lo abbraccia e gli bacia il volto, contento di averlo salvato e dice anche Quei fu al mondo persona orgogliosa, quella persona sulla terra fu una persona arrogante, nessuna virtù adorna la sua memoria, bontà non è che sua memoria freggi. Così se è l'ombra sua qui furiosa, così la sua anima qui si infuria, continua ad infuriarsi. Le anime dell'inferno sono legate strettamente al loro vizio, non lo abbandoneranno mai più e quindi continuano a mantenere anche nel corso della vita eterna quelle caratteristiche di brutalità che le caratterizzava nella vita terrena. Virgilio continua Quanti si tegnono or lassù gran reggi che qui staranno come porci imbrago di se lasciando orribili dispreggi? Quanti sono coloro che oggi si considerano sulla terra personaggi di dignità regale e qui staranno come porci nella melma lasciando di sé memoria spreggevole. Insomma, la violenza di questo cerchio sembra contagiare anche Virgilio e anche Dante che di solito è sempre molto empatico nei confronti delle anime, si limita ad osservarle, a sentirne le storie, a volte si emoziona, piange. Qua invece si fa trascinare da questa ira che pervade l'ambiente in cui si trova. E guardate proprio che cosa dice, insomma, è abbastanza meschino Dante in questo passaggio. Maestro, molto sarei vago di vederlo attuffare in questa broda prima che noi uscissimo del lago. Maestro, sarei molto desideroso di vederlo immergere in questa acqua sudicia prima che noi usciamo dalla palude. Dante vuole la vendetta. Non gli basta che questo personaggio sia immerso nella palude Stigia e che sia stato ricacciato indietro da Virgilio. Lo vuole anche veder affogare. E Virgilio sembra volerlo accontentare. Avante che la proda ti si lasci veder, tu sarai sazio. Prima che ti sia consentito di vedere l'altra riva, quindi prima che il viaggio finisca, sarai appagato. È giusto che tu goda di questo desiderio. Di tal disio conviene che tu goda. Insomma, io non ve l'ho ancora presentato questo personaggio, però effettivamente Dante ha proprio bisogno di vendicarsi di lui. E Virgilio glielo riconosce. Dopo ciò poco vi dio quello strazio far di costui alle fangose genti che Dio ancora ne lodo e ne ringrazio. Dopo queste parole di Virgilio, io vi di fare di costui un tale strazio dalle anime della palude che ancora ne lodo e ne ringrazio Dio. Dante è felice di veder sprofondare nella palude aggredito dalle altre anime questo personaggio. Tutti gridavano a Filippo Argenti e il fiorentino spirito bizzarro in sé medesimo si volvea coi denti. Tutti cioè gridavano mentre lo attaccavano addosso a Filippo Argenti e l'anima fiorentina iraconda si rigirava con i denti contro se stesso. Guardate, Dante è atteso fin qui per presentarcelo. Scopriamo solo in questo momento che il concittadino di cui sta parlando è Filippo Argenti che a noi non dice granché probabilmente ma ai contemporanei di Dante doveva dire molto e deve essere stato divertente veder comparire il suo nome proprio a questo punto dopo che Dante ci ha mostrato il suo atteggiamento la sua punizione. Chi è questo benedetto Filippo Argenti? In realtà non è un personaggio storico così importante infatti non abbiamo tantissime fonti su di lui anche nel canto 6 era successo con Ciacco che come unica fonte principale fonte avessimo proprio la Divina Commedia e basta. In questo caso come anche per quello di Ciacco Filippo Argenti è presente nella Divina Commedia e nel Decameron di Boccaccio è protagonista in particolare della stessa novella in cui c'è anche Ciacco e quindi di lui non sappiamo molto altro a parte queste cose che ci raccontano appunto questi scrittori questi letterati certo che Filippo Argenti doveva essere un personaggio veramente odioso o almeno doveva esserlo per Dante Boccaccio ci dice per esempio che si chiama così Filippo Argenti perché aveva l'abitudine di cavalcare ferrando il suo cavallo d'argento e veniva considerato questo un vezzo borioso insomma un modo di fare assolutamente sgradevole antipatico Dante non ce l'ha con lui soltanto per questo però a quanto pare ci sono stati dei veri e propri problemi tra la sua famiglia quella degli Alighieri e la famiglia di Filippo Argenti gli Adimari probabilmente Dante si inimicò Filippo Argenti probabilmente durante un processo forse per problemi giudiziari dello stesso Argenti e quindi questo Filippo Argenti poi in futuro si sarebbe vendicato di Dante o dandogli uno schiaffo si dice anche questo oppure semplicemente ostinandosi a fare opposizione al fatto che Dante potesse rientrare a Firenze dall'esilio così capiremmo l'odio profondo che prova Dante che gli dedica addirittura a un canto intero è arrivato qui il momento di lasciare questo Filippo Argenti qui vi lasciamo che più non è narro non aggiungo altro ma nelle orecchie mi percosse un duolo per chi io avanti l'occhio intento sbarro però un coro di confusi lamenti mi colpì gli orecchi per cui sbarro gli occhi fissando avanti a questo punto Virgilio gli dice ormai figliolo s'appressa la città che ha nome Dite coi gravi cittadini col grande stuolo ormai si avvicina alla città che si chiama Dite con i cittadini aggravati dalle pene con l'innumerevole esercito dei diavoli eccoli qui stanno arrivando da questo momento in poi saranno i protagonisti di tanti canti sono i diavoli che abitano la città di Dite questa immagine della città di Dite è presa di nuovo dalle neite di Virgilio noi pur giungemmo dentro all'alte fosse che vallano quella terra sconsolata giungemmo finalmente ai profondi fossati che girano intorno a quella città di disperazione le mura mi sembravano fatte di ferro le mura mi pare anche ferro fosse non senza prima far grande a girata venimmo in parte dove il nocchier forte usciteci gridò qui è l'entrata quindi non senza aver percorso prima il lungo giro arrivammo in un luogo dove il nocchiero fleggias gridò con forza uscite dalla barca qui è l'ingresso io vidi più di mille sulle porte da ciel piovuti che stiziosamente dicean chi è costui che senza morte va per lo regno della morta gente insomma l'accoglienza non è delle migliori Dante vede sulle porte di questa città più di mille diavoli che si precipitano dal cielo e che dicono con stizza chi è costui che senza essere morto attraversa il regno dei dannati Virgilio come ha sempre fatto è incaricato a questo punto di risolvere il problema e quindi il sabio mio maestro fece segno di voler loro parlare segretamente e qua Dante rimane preoccupato di quello che sta succedendo ha paura che non lo facciano passare che non lo facciano entrare nella città di Dite pensa le torse io mi sconfortai nel suon delle parole maledette che non credetti di tornarci mai credetti di non tornare mai più sulla terra di rimanere per sempre lì oh caro duca mio che più di sette volte mai si curtare induta e tratto dal tuo periglio che incontra mistette non mi lasciar diss'io così disfatto oh Virgilio che mi sei stato accanto finora non mi abbandonare così distrutto se ci è vietato di passare oltre ritorniamo rapidamente sui nostri passi torniamo indietro se il passare più oltre ci è negato e quel signor che lì mi aveva menato mi disse non temer che il nostro passo non ci può torre alcun stai tranquillo perché nessuno ci può impedire il passaggio è concesso da Dio ma qui mi attendi e lo spirito lasso conforta e ciba di speranza buona che io non ti lascerò nel mondo basso Virgilio qui è di nuovo affettuoso nei confronti di Dante gli dice di non preoccuparsi di stare tranquillo e di attendere un attimo con speranza così se in va e qui vi mi abbandona lo dolce padre e io rimango in forze che si e no nel capo mi tenciona e io rimango lì in dubbio speranza e timore si e no combattono nella mia mente Virgilio a questo punto va a parlare con i diavoli questi diavoli lasciano andare subito Virgilio e chiusero le porte quei nostri avversari nel petto al mio signor gli chiusero le porte della città di Dite in faccia che fuor rimase rivolsesi a me con passi rari con passi lenti Virgilio tornò sconsolato verso di me povero Virgilio che ha a questo punto gli occhi a terra e le ciglie prive di ogni sicurezza e diceva tra i sospiri chi mi ha negato le dolenti case chi mi ha impedito di entrare nella città del dolore qui Virgilio sembra sconsolato sembra non poter far nulla cerca ancora di confortare Dante ma non sa veramente come fare per fortuna però a un certo punto già uno sta discendendo il pendio al di qua di essa passando per i cerchi senza bisogno di scorta così che grazie a lui ci sarà aperto il campo tal che per lui ne fia la terra aperta qualcuno quindi sembra senza guida senza protezione riuscire ad arrivare fino alla città di Dite per far aprire il passaggio e qua dovrà intervenire qualcuno per far aprire le porte della città ma questo lo scopriremo soltanto nel prossimo canto l'ottavo canto finisce qui e finisce qui questa lettura vi ringrazio per averla seguita e veramente spero che vi stia piacendo perché al di là di tutto al di là del fatto che sia un'opera che si studia a scuola noi la associamo a quel mondo lì è un'opera veramente meravigliosa da leggere piena di colpi di scena è una narrazione veramente contemporanea c'ha una struttura un modo di mandare avanti il racconto che è proprio nostro quindi ancora altamente godibile quindi io vi lascio in attesa del prossimo canto e nel frattempo vi ringrazio e vi saluto alla prossima puntata grazie a tutti